Ciao sui family, oggi sono qui per aprire insieme a voi le drink surprise o meglio, delle bibite con all'interno la sorpresina ma prima di cominciare, keep calm, stay tuned and sigla Hola sui family and welcome back to my channel ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo super drink video ebbene sì perché come avrete ben capito oggi andremo ad aprire delle drink surprise dove le ho trovate? Le ho trovate da Lidl, ci sono da un sacco di tempo e questa volta mi sono deciso a comprarne due, o meglio due di Frozen e una dei Minions per aprirle insieme a voi e raga sono veramente super mega iper curioso anche del gusto perché Orange and Mandarin Nectar tra l'altro sembrerebbe anche un po' salutare perché c'è all'interno il 65% di succo di frutta non ci sono zuccheri, non ci sono conservanti e però ci sono anche comunque una piccola percentuale di vitamina A e di vitamina C penso che sia dovuta proprio al mandarino e all'arancia all'interno di quelli di Frozen possiamo trovare tre tipi di sorprese tutte ovviamente dedicate ai personaggi che ci fa vedere qua e prima di cominciare anche quella di Minions in teoria dovremo trovare qualche Minions comunque scopriremo strada facendo e prima di cominciare però cosa dovete fare? ovviamente lasciarmi un bel like se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube ovviamente iscrivete al mio canale YouTube no raga ma che disagio è oggi e se non l'avete ancora fatto mi raccomando seguitemi anche sugli altri miei social network o meglio Instagram e la mia pagina TikTok e adesso raga cominciamo allora innanzitutto io comincerei dal gusto e poi ci teletrasportiamo giro la mia postation allora queste sono le bottigliette in questione come già vi dicevo sono il gusto mandarino arancia sono 300 ml e costano 1 euro l'una la consistente sembrerebbe quella del succo curioso io allora apertura super facilitata ho fatto lo scloff e c'è tipo il ciucetto ok succo d'arancia pure buono mi piace mi piace mi piace mi piace vabbè alla Lidl è tutto più buono non si sa ma a me la Lidl fa impazzire fatemelo sapere giù nei commenti se anche voi vi dà lo stesso effetto e quindi niente raga io direi di teletrasportarci immediatamente giù nella mia postation per scoprire la surprise scarta la surprise la postation ed eccoci qua su il family finalmente catapultati nella mia magic postation super mega prontissimi per scoprire insieme le sorpresine 3d che si nascondono all'interno delle nostre drink surprise come già vi dicevo prima il succo è veramente molto buono si sente che non è super chimico perciò top e quindi questa è la confezione più nel dettaglio qua vi mette tutte le percentuali tutte le cose un po' sanification eccetera e qua all'interno di questo bussolotto appunto c'è la sorpresa stile ovetti kinder quindi cioè poco cambia a parte che è una bottiglia come si apre? non lo so come si apre ah qua vi fa vedere la mini checklist degli personaggi che potete trovare all'interno quindi Elsa, Anna e il personaggio maschile della saga ottimo come vedete all'interno c'è appunto il succo questo qua mi sa che è quello che ho già bevuto scusatemi per il rumore della lavatrice in sottofondo ma mia mamma è venuta a scuola c'è una lavatrice ok ma raga ma che curiosa questa bottiglia questa è la surprise nel suo bussolotto e questo qua è l'incavo che la tiene incastrata ottimo e andiamo subito ad aprirla no vabbè ma raga ma sono fatte bene cioè oh my god allora questa è la checklist non potete trovare solo quei sei personaggi ma potete trovare bene nove personaggi che vi faccio più nel dettaglio della collezione Frozen 2 quindi Frozen 2 e questa è Anna ah ma sono tipo di gommina morbida oddio non sono proprio bellissime però da lontano fanno il loro effetto cioè ha un po' gli occhi strani della bici ah oh my god però sono targate Disney cioè adoro poi vabbè per essere delle drink surprise cioè top di succo che è pure buono fantastico ecco fatta fuori fuoco perfetto e questa qua è la prima surprise andiamo alla surprise number 2 di Frozen ok il gusto è sempre lo stesso non cambia niente e andiamo a tirare fuori il nostro bussolotto sicuramente freddo è molto più buono con il succo qua ah si è già aperto e vabbè dai ah ok e abbiamo trovato Sven che è la renna del nostro cartone ecco Sven è fatto un pochettino meglio cioè ecco un pochettino più meglio di di Anna perché Anna veramente raga è una cosa inguardabile da lontano sembra una specie di ermione sì in lontananza se la guarda sembra ermione poi se la avvicinate sì ci sta ma è un po' discutibile vabbè dettagli dettagliosi andiamo avanti e apriamo la terza bottiglietta che in questo caso è dedicata ai Minions avrei potuto prendere tutte di Frozen però ho detto ma sì facciamo vedere cosa si trova sia in quelle di Frozen che in quelle dei Minions cioè così da fare una recensione a 365 gradi ottimo sempre come vi dicevo stesso gusto e questo è quello dei Minions i bussolotti sono uguali a quelle della Kindere ecco oh no vabbè ma che belli cioè no allora raga raga tanta tanta roba sono sincero veramente belli in questo caso abbiamo il Minions pompiere c'è ma i dettagli anche della pompa d'oro non so se si vede qua c'è la pompetta d'oro dell'acqua eccetera ma poi il Minion veramente è fatto nei minimi dettagli top 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 e ovviamente c'è anche una checklist in questo caso sono i Minions che arrivano dalla cattivissimo me o meglio in inglese Despicable Me e questi qua sono tutti i Minions ce ne sono dieci e ovviamente sono tutti da collezionare raga l'unicorno io l'ho sempre il Minions Hawaiian no il Minions Camerina top ecco e quindi niente raga queste qua sono le sorprese che potete trovare all'interno delle Drink Surprise e adesso ritorniamo a noi per i saluti finali eccoci qua Soul Family dopo aver scoperto le surprise delle Drink Surprise io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso perché se è successo così ovviamente lasciatemi un bel like se siete nuovi e vorrete far parte anche voi della Magica Soul Family iscrivetemi tantissimo al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto anche in tutti i miei social network o meglio Instagram e la mia pagina TikTok io per adesso vi mando un super mega kiss svirloso a tutti un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video ciao Soul Family a tutti a tutti e